Ad Agrigento, alla Comune, nella Sala Giunta, il Sindaco Lillo Firetto ha presentato in conferenza alcuni degli eventi estivi già programmati a San Leone, tra cui la Repubblica della Spiaggia, un evento musicale che si svolgerà gratuitamente venerdì 2 giugno, all'Oceano Mare, al Viale delle Dune, a San Leone, con i Tinturia e Riccardo Gazz, al microfono di Irene Milisenda. Ad Agrigento si inizia a fare sistema, tanti eventi prossimi per questa stagione che sta per iniziare? Sì, speriamo, noi lanciamo questa proposta, fare sistema tra il turismo ricettivo, il grande lavoro che stanno facendo da Agrigento i B&B, il lavoro dell'amministrazione, ma anche il lavoro di chi fa impresa di intrattenimento, di chi cerca di offrire un prodotto turistico in questa città che magari può portare il turista a fermarsi qualche giorno in più. Le risorse economiche di Agrigento sappiamo tutti che sono a lumicino, servono per il quotidiano ed oggi, guardando alle difficoltà che ci sono in tutta Italia, non è da poco. Credo che sia arrivato il momento di cominciare a fare sistema, di tirare fuori il meglio che c'è in noi, di cominciare a pubblicizzare Agrigento per quanto è bella, per le sue bellezze e non soltanto per i fatti negativi. Non fermiamoci a guardare una mattonella che non ci piace, cominciamo a guardare il nostro mare, cominciamo a capire cosa possiamo fare noi per questa città, non cosa può fare e cosa deve fare questa città per noi. Ecco, il 2 giugno un grande evento a San Leone. Cominciamo con la Repubblica della Spiaggia, nell'ottica di questa collaborazione, di questo protagonismo civico che abbiamo deciso di sposare, offrendo gratuitamente il concerto dei Tintoria nell'ambito di una manifestazione che è il secondo anno che si chiama la Repubblica della Spiaggia. C'è la festa della Repubblica. Io ho il grandissimo onore, oltre che il piacere, di ospitare il mio amico Lello Analfino che insieme ai Nottefonda e insieme a Giorgia Meli e alla vivace capacità di intrattenimento di Riccardo Cazziano saranno con noi dalle 14 fino all'incirca alla mezzanotte in una grande festa di musica che vuole essere un po' d'auspicio a quella che sarà un'estate piena di eventi. Noi continueremo poi con il Blues & Wine Festival giorno 2 agosto, arrivata la quindicesima edizione, questo grande lavoro di Gio Castellano che comunque propone la degustazione di cantine, delle più note cantine siciliane e non italiane, che offriranno i loro prodotti. Dopodiché ci sposteremo sulla spiaggia per la Super Soul Band, sua coinvolgente, 16 elementi, spiagge e faremo festa. Dopodiché terremo a battesimo, e questo è un grande onore, il Festival di Fausto Sabateri che è una kermesse che dura tre giorni e che vedrà come altre location il Tempio di Giunone e il Farm Cultural di Favara oltre che poi il 5-6, due giorni sulla spiaggia con dei DJ, uno inglese e uno tedesco che verranno a offrirci il loro modo di intrattenere. Questa è l'offerta di Oceanomare, questa è l'offerta alla città di Agrigento, tutto quello che noi faremo sarà assolutamente gratuito, chi vorrà venire non avrà l'obbligo neanche di prendere una bottiglia d'acqua, ma semplicemente di stare tranquillo a godersi della buona musica e a godersi della città. Questo è quello che speriamo riuscire a fare ad apprezzare ai nostri turisti. Sì, tanti eventi realizzati dai privati, a spese dai privati ed è stato reclamato da loro e io di questo ringrazio una sinergia pubblico-privato sotto il profilo delle condizioni strutturali e quindi dell'aiuto sui servizi. Per il resto va dato onore e merito a chi li ha pensati e anche finanziati. Però mi piace poter sottolineare questo, cioè la chiave di volta della nostra città è questo infittirsi di comunicazione e anche di collaborazione pubblico-privato che serve a fare sistema, che è un po' il tallone di Achille che nel tempo la città ha manifestato. Facendo sistema, credo che una città come la nostra, che ha le bellezze che ha, che ha i riconoscimenti che sta cominciando a avere, disincagliandosi da certi luoghi comuni del passato, che comincia a avere all'esterno una luce diversa con questa chiave di volta che è il partenariato pubblico-privato, certamente andremo nella direzione giusta ed è una città che farà tantissimi passi avanti, indipendentemente dalle istituzioni, indipendentemente da certa politica credo che la marcia in più stia arrivando da tanti giovani, dai gestori, quelli che cominciano a lavorare di fantasia e che comprendono che in questo territorio, per tanto tempo vituperato, è quel territorio che amandolo e acquisendone orgoglio si possono fare grandi cose e trovare le risposte anche alle proprie possibilità di riaffermazione economica e anche professionale.